20 minuti per entrare nell'attualità politica e per tornare a Genova per vedere a che punto è la ricostruzione del ponte. Sono tanti gli episodi che, complici o meno il maltempo, hanno dimostrato la fragilità del nostro territorio e delle nostre infrastrutture. Ora è tornato il sole, ma quanto durerà? Gli ospiti sono pronti? Noi facciamo le domande. Sigla. Come ogni sera abbiamo solo 20 minuti per raccontare questa Italia interrotta, è il titolo di questa puntata. Allora vi presento subito i nostri ospiti. In studio abbiamo Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e fondatore del movimento politico Cambiamo. E poi con noi abbiamo la giornalista Laura Tecce che ci farà compagnia e ci aiuterà a capire a che punto siamo. Perché, presidente, ci eravamo lasciati in un collegamento proprio da questi studi in cui la situazione era drammatica, la Liguria era in ginocchio. Oggi che succede? A che punto siamo? Beh, la Liguria è un po' meno in ginocchio, nel senso che fortunatamente è smesso l'emergenza, è smesso di piovere, si sta ovviamente riparando i danni. Restano tutti i grandi temi di questo paese che riguardano quasi tutti, ahimè, la nostra regione, anche perché è una regione molto importante per i trasporti, ospitando tutti i principali porti del paese. Quindi il tema resta quello della debolezza delle nostre infrastrutture, il tema resta quello della scarsità delle nostre infrastrutture. Noi ne abbiamo poche vecchie, non ne stiamo costruendo di nuove, abbiamo manutenuto poco quelle, ed è il tema del dibattito con società autostrade di queste ore. Dal governo, francamente, non sono arrivate risposte fino ad adesso che mi tranquillizzi, non è sul fronte autostrade, né sul fronte delle nuove infrastrutture, né sul fronte degli investimenti. Questa è la situazione. Laura, sembra un paese distratto, in realtà, nella dialettica politica interna ai partiti, interna alla maggioranza, mentre un paese si sgredola. Ma sai, se il dibattito è concentrato sulla legge elettorale e non su, appunto, come dici tu, come dice il Presidente, sulle cose fondamentali, perché le infrastrutture non riguardano solamente l'economia, il PIL, è ovvio che riguardano quello, ma riguardano anche gli spostamenti di tutti noi, in primis la sicurezza. Poi, appunto, oggi, proprio oggi, in questi giorni, la Guardia di Finanza ha stilato un elenco di 100 tunnel a rischio, e, insomma, in Liguria il Presidente ne sa qualcosa, quindi c'è il MIT che sono, insomma, dal Ponte Morandi. Ecco, una cosa che vorrei dire, non bisogna aspettare la tragedia, però. E però in Italia, purtroppo, lavoriamo sempre sull'emergenza. Esatto, la tragedia scatena allora. Ah, ma forse le infrastrutture non ci sono, guarda un po'. La realtà è che è passato ormai più di un anno e mezzo da quel Ponte Morandi tragico. Tutti noi aspettiamo giustizia e verità su quello che è successo, cosa che spetta la magistratura. La politica è stata un po' troppo impegnata a fare propaganda su ritiro delle concessioni, su ricerca dei colpevoli, cosa che tutti noi vogliamo, ma spetta ai Tribunali della Repubblica, alla Procura di Genova, che sta facendo una grande e complessa indagine, mentre ha saputo dare pochissime risposte in termini concreti. L'Agenzia per il controllo della sicurezza delle infrastrutture, promessa un anno e mezzo fa, non ha visto ancora la luce, forse adesso ha un direttore generale. Gli investimenti, la gronda di Levante di Genova, che è un po' la gronda di Ponente, che è un po' l'emblema delle infrastrutture non fatte in questo Paese, 5 miliardi di investimento bloccati, sa quanti posti di lavoro sarebbero stati ad oggi, ma ogni regione ha i suoi esempi, per l'amor di Dio, non voglio dire che la Liguria ha tutti questi esempi. La Liguria è particolarmente importante, ha perché 43 morti non vanno dimenticati, e la politica, anziché urlare alla luna la ricerca di colpevoli, cosa che spetta, ripeto, ai magistrati, non che non ci debbano essere, dovrebbe dare delle soluzioni per la sicurezza e per il futuro dei cittadini. Ma poi la Liguria è la prima piattaforma logistica del Paese, e quindi costi di logistica, costi di trasporto vanno a incidere su tutto il nostro sistema della competitività, creando un danno incredibile. Tenere bloccato, avere addirittura discusso sul terzo valico se andava fatto o non fatto, tenere bloccata la gronda di Ponente, tenere bloccata la ferrovia a Ponente, che in alcuni tratti è un tratto, è ancora ad un binario. Ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando in questo Paese? Abbiamo miliardi di euro bloccati per legislazioni inefficaci e per scelte politiche troppo timide. Il Paese che cresce è un Paese che si sa muovere, no? C'è mobilità. Diciamo che se le merci arrivano in un grande porto come Genova e poi restano bloccate a Genova... Sì, allora, il Presidente parlava di responsabilità che appurerà la magistratura e siamo d'accordo, però ci sono anche delle scelte politiche ben precise da fare, perché comunque le concessioni che sono state date ad autostrade, per l'Italia in questo caso, ma anche a Gavio o ad altri operatori, non è una cosa contro autostrade, risalgono alla fine degli anni 90 e sono state date con un margine di discrezionalità, di guadagni enormi. Cioè, vanno un po' riviste forse. Ora, io non voglio essere tranchà, la revoca tutto subito, senza... Però, insomma, io non chiedo neanche la nazionalizzazione, perché credo di essere abbastanza liberista, il privato non è sempre sinonimo di male, anzi, però al privato vanno date delle regole e non uno straguadagno, una cosa giusta. Noi in Liguria, l'abbiamo detto fin dall'inizio, siamo laici sull'atteggiamento del governo sulle concessioni. Se sono stati violati i contratti, se si è investito poco, se questo ritiene il governo ha tutto il diritto di procedere come ritiene, quello che a me preoccupa è che non si risponda alle domande che faccio io subito dopo. Se si decide che le concessioni devono essere ritirate, perché si pensa che questo sia legittimo e anche utile al Paese, qualcuno avrebbe dovuto preparare il fatto che legato a quelle infrastrutture solo in regione Liguria ci sono 5 miliardi di investimenti. Chi farà quegli investimenti? Oppure dobbiamo rinunciarci? Perché fino adesso, nelle chiacchere, si ritira o non si ritira, è bloccata la gronda che doveva portire a gennaio del 2019, siamo a gennaio del 2020 e non ce n'è ancora traccia, e molte altre opere accessorie, penso alle varianti Aurelia, potrei andare con un lungo elenco, io, è una regione piccola, figuriamoci le grandi regioni. Il personale di società autostrade, dove va? Si farà un'altra gara per affidarlo ad altri con una concessione diversa? Bene, quanto tempo ci vorrà? Queste sono le domande a cui io pretendo delle risposte, e dopo di che si faccia quel che si ritiene giusto, se è giusto ritirarle si ritirino, ma si diano anche delle risposte e delle certezze sul futuro. Vi metto un attimo in pausa perché torniamo a Genova con la nostra Stefania Zane. E' buio quando sale l'ottava campata. L'impalcato ora corre per 250 metri. Un quarto della strada del nuovo ponte di Genova è ora visibile. La città è un po' meno divisa, l'impegno ininterrotto e costante di ingegneri e operai ripagato. Ma già ecco che c'è da pensare alla nona campata, da aissare a Levante la settimana prossima, poi ne mancheranno ancora dieci. A metà marzo saranno tutte in alto, ma non sarà finita. L'ultimo calendario presentato dai costruttori indica come data di fine lavori giugno. Per il commissario alla ricostruzione Marco Bucci la best option resta fino aprile. Ma bisogna tenere conto che si sta facendo in un anno quello per cui normalmente ce ne vorrebbero almeno tre. E' così che gli imprevisti possibili in un cantiere diventano la perdita di giorni preziosi. Come quando all'alba del 31 dicembre il cassero, la struttura in legno di una pila va a fuoco. O prima ancora come quando una gru in novembre si ribalta ferendo un operaio e si sconta il maltempo dell'autunno più piovoso che la Liguria abbia mai visto. Il costo del nuovo viadotto è di oltre 200 milioni di euro a carico di autostrade per l'Italia, che però ha fatto ricorso contro il decreto Genova e la scelta di affidare la ricostruzione del ponte sul Polcevera non alla concessionaria, ma all'accordata Salini in pregilo fin cantiere. Una prima pronuncia del Tar ha rilevato profili di incostituzionalità nel decreto, ma intanto il ponente tende la mano al Levante iniziando a rimarginare una ferita che lascerà una cicatrice profonda. 14 agosto 2018. Vengono davvero i brividi. Insomma, su autostrade ritiro Maxi Multa, a quanto pare si deciderà dopo il voto in Emilia. Su autostrade si decida. Il mio appello col cuore in mano è questo. Ho sentito ministri trasformarsi in giustizieri. Ripeto, la giustizia è una bella cosa che tutti noi vogliamo. Io frequento i familiari di quelle vittime e sono certo che non si sanerà quella ferita finché non sapremo chi ha sbagliato e chi paghi. Ma non credo spetti a un ministro della Repubblica. Un ministro della Repubblica aspetta a dire ai cittadini che vivono a Genova, alle imprese che vivono a Genova o utilizzano Genova come porto, come si sana una ferita da un punto di vista politico. Noi stiamo facendo a Genova, lo dice il vostro servizio, quello che normalmente si fa in anni di lavoro. Però è anche la prova che si può fare se c'è la volontà politica per farlo. Non vedo perché si debba fare solamente con il Ponte Morandi e non con tutte le opere che stanno aspettando in questo paese. Il pronte sarà pronto a maggio, sarà pronto a giugno come avevamo promesso e quello sanerà una ferita della città. Dopodiché restano tutte le altre domande in evase. Laura, il fatto che si rimandi a dopo le elezioni in Emilia fa capire che è un problema politico. Ma guardate, lo stavo per dire a me questa cosa. Quando c'erano le europee, per mesi avevano detto ah dopo le europee, adesso dopo le elezioni, sembra che ogni elezione locale europea in Italia si stravolga il quadro complessivo. Queste sono decisioni che vanno prese a prescindere da qualsiasi tipo di elezione e che non vedo francamente il nesso fra il risultato in Emilia Romagna e in Calabria e appunto come dice il governatore è un'emergenza che si sta gestendo per fortuna bene perché l'Italia è anche il paese dei commissari che a volte sono giusti e a volte un po' meno. In questo caso il sindaco, il sindaco Bucci è il commissario e quindi chi meglio di lui. Conosce il territorio. Però ripeto, non vedo il nesso fra le due cose. Provo a fare un esempio in un secondo. Il decreto Genova stanzia 300 milioni di euro per garantire la ricostruzione di quel ponte che in realtà al momento sta pagando Società Autostrade. Se si ritireranno la concessione immagino che Società Autostrade, è giusto fare così, ritengo che Società Autostrade se si ritirerà la commissione non continuerà a pagare il ponte. È un tema che ci ponevamo col commissario Bucci. Non credo però, perché comunque anche per rispetto ai 43 morti il governatore non credo che faccia una cosa così. impopolare. Non è che i soldi non ci sono. Beh, il decreto è stato impugnato. Quindi è ovvio che lo contesta anche per... Allora, i soldi ci sono, noi continueremo a costruirlo. Però penso che quei 300 milioni si potessero usare anche per fare altro e far pagare i danni come giusto Società Autostrade. Io mi chiedo perché tutte le volte noi, questo Paese, ci incartiamo nelle strade più difficili e più complesse. Invece della linearità si poteva commissariare quella società con un commissario come si è fatto con altre società e quindi una gestione commissariale che garantisse gli investimenti. Si potevano stare strade meno roboanti, altrettanto efficaci nell'attesa che i magistrati trovassero dei colpevoli che dovranno andare in galera e che l'Italia continui a marciare verso una serie di piani di investimenti di cui abbiamo bisogno. Invece si è scatenato una polemica che temo, voglio dire, a pensare male si fa peccato ma talvolta ci si azzecca serva più a coprire il fatto che non si è stato in grado di dare risposte concrete, efficaci, rapide che non realmente a fare quello che si dice. Rimaniamo in Liguria perché sempre la nostra Stefania Zane ci fa un racconto e non so se possiamo essere così sicuri a viaggiare sulle strade. Vediamo un attimo, poi ne parliamo insieme. Siamo sotto il viadotto di Recco alla base della pila numero 11 l'acqua sta scendendo e qui abbiamo trovato lo sportello aperto e proviamo a vedere che cosa c'è all'interno se l'acqua si è infiltrata. Guardate, è pieno di acqua l'acqua si è infiltrata fino qui c'è questa scaletta ma la scaletta è corrosa vedete, si stacca, si rompe il ferro è arrugginito proviamo ad entrare in questo altro ambiente dobbiamo stare attenti a dove mettiamo i piedi guardate qui l'acqua supera il livello delle caviglie vengono i brividi io le voglio dire che la Guardia di Finanza ha acquisito questo video il nostro video realizzato da Stefania la verità è che non riusciamo neppure come regione e abbiamo chiesto di poter partecipare con un nostro advisor indipendente a tutte le verifiche cosa che al momento non è ancora accaduto non si conosce realmente la situazione società autostrade dice una cosa i periti della procura ne dicono un'altra e tendo a fidarmi della procura di Genova che sta facendo un ottimo lavoro regioni, comuni non hanno accesso ma te come presidente potrebbe chiedere la gestione delle autostrade? io potrei chiedere ho anche detto che sono disponibile a farle ho anche messo la concessionaria Ligure nei temi dell'autonomia regionale al momento regioni e comuni non hanno voce in capitolo sulle concessioni nazionali così come sulle reti ferroviarie e la rete autostradale noi non abbiamo potere di ispezione non abbiamo potere di decidere i concessionari è un rapporto a due tra governo centrale e concessionari evidentemente un rapporto squilibrato come si vede oggi qua noi siamo disponibili come alcune regioni hanno fatto ad acquisire la rete autostradale e mettere in gestione però è una decisione che deve prendere il governo e il Parlamento di infrastrutture oggi ha parlato Matteo Renzi sentiamolo insieme per me la cosa fondamentale che deve fare Conte e con Conte tutto il governo è sbloccare i cantieri perché al di là delle discussioni dell'articolo di Polito delle riflessioni dei talk show qui c'è un problema ci sono 120 miliardi di euro che sono bloccati e che potrebbero permettere all'Italia io non dico di ripartire con slancio ma almeno di respirare Sbloccare i cantieri lo dice da un po' Matteo Renzi ma lo dicono tutti e non lo fa nessuno Matteo Renzi è stato al governo molti anni di questo paese anche con un certo vigore e come si dice un certo potere personale esercitato all'epoca non mi pare che ci siano stati grandi risultati per cui rientra in campagna elettorale diciamo in propaganda Laura? Renzi Renzi dici niente il tema delle infrastrutture il tema delle infrastrutture voglio vedere il governo che dica no ai soldi da stanziare nelle infrastrutture però poi nella finanziaria anche nell'ultima non mi sembra che ce ne siano e in quella precedente neanche non voglio far torto a nessuno quindi appunto è come la lotta all'evasione questi grandi temi che oggettivamente nessuno può dire di no soprattutto nessuno ha il coraggio di dire che funzionava meglio il codice degli appalti del conte di Cavour di quello che è stato fatto dagli ultimi governi perché 120 miliardi è una cifra esatta se anche per 10 anni questi 100 venissero spesi sarebbero 12 miliardi di euro di più di pilla all'anno per il nostro paese quindi sarebbero migliaia di posti di lavoro che creano indotto fiscale però non l'ha fatto Renzi non l'ha fatto Gentiloni non l'ha fatto il governo precedente non lo sta facendo l'attuare ho tre minuti vorrei anche parlare di questo soggetto politico cambiamo qual è l'obiettivo? sbloccare i cantieri sarebbe già sarebbe già un grande passo avanti e noi in Liguria l'abbiamo fatto perché dei 500 quasi 600 milioni di euro che Renzi mi ha dato perché l'idea del governo Renzi sul disesto ideologico noi abbiamo cantierato tutto che obiettivo si pone di percentuale? di percentuale quello che gli italiani vorranno darlo io non solo per la frammentazione politica se poi non ci dovessero essere le condizioni noi ci proponiamo di dare equilibrio al centro-destra e di portare un minimo di pragmaticità ragionevolezza e alcune culture che oggi nel centro-destra sono un po' fragili speriamo di riuscirci di sicuro ne abbiamo parlato saremo nel centro-destra Mara Carfagna sarà con lei alla fine? è una domanda che dovete fare a Mara Carfagna ho sentito le sue ultime dichiarazioni che non sarà mai a sinistra e noi saremo nel centro-destra quindi penso di sì sarà dalla nostra parte dichiarazione di giornata dei politici sentiamo prima Zingaretti PD e poi Matteo Salvini quelli di Salvini sono decreti propaganda non di sicurezza perché sulla sicurezza non hanno proposto nulla sulla sicurezza urbana bisogna rafforzare la presenza delle forze dell'ordine patti con le prefetture ma anche cinema teatri socialità sport lavoro riqualificazione urbana e questa è la nostra politica per la sicurezza se questo non va bene la sinistra vuole tornare al caos per far fare quattrini a qualche amico lo dica ma gli italiani non glielo faranno fare quindi sento tante sciocchezze vogliono alzare l'età pensionabile vogliono cancellare i decreti di sicurezza hanno già riaperto i porti non vanno lontani la parola più usata in questo momento della politica sia per attaccare che per difendersi e propaganda sì beh però insomma parlare di sicurezza dicendo che bisogna aprire cinema e i teatri mi sembra un po' poco insomma perché sì se c'è il cinema però poi mancano insomma i cittadini non si sentono sicuri ad arrivare la sera a una stazione ferroviaria senza dover di spettacolo tra poco inizia il festival di Sanremo il problema degli italiani non è avere i cinema i teatri che ce ne hanno e non essere borseggiati esatto appunto sta dicendo la stessa cosa ma io voglio tornare sul fatto di Sanremo un grande evento ci riusciranno ad arrivare ospiti invitati i conduttori ci arriveranno è stata nonostante le difficoltà una grande stagione delle feste di Natale per il turismo Ligure abbiamo dato oggi dei dati molto importanti Sanremo sarà un momento di grande visibilità bellissimo invito tutti a partecipare un omaggio perché sono 21 anni dalla scomparsa di Fabrizio D'Andrea un omaggio lo vediamo insieme vero dopo tre anni di baglioni ora si cambia quando si cambia c'è sempre un po' di e questa era la Croza del Mar questa era la Croza del Mar che credo sia una delle più belle canzoni di D'Andrea delle tante belle che ha fatto il festival di Sanremo non so se esprimerà qualche cosa di musicalmente a questo livello però è un grande show la verità? sì no eh vabbè allora niente per questa sera le domande sono finite ringrazio i nostri ospiti voi continuate a cercare le risposte domani non ci saremo ci vediamo venerdì